Quello appena trascorso a Portoferraio è stato un fine settimana di sbaracco. L'edizione invernale è stata caratterizzata dalle maschere di carnevale, ma anche da musica e degustazioni. L'appuntamento è diventato tradizione grazie all'impegno costante nell'organizzazione dell'evento del Centro Commerciale Naturale, oltre le mura. Tutti i negozi aderenti hanno fatto i buoni affari grazie alla numerosa partecipazione di persone che hanno potuto fare acquisti favoriti dalle belle, anche se fredde, giornate dello scorso weekend. Un momento d'aggregazione e simpatia si è avuto sabato pomeriggio. In Piazza Pietre è stato organizzato un raduno di mascherine con i bambini che si sono divertiti, accompagnati dalla musica dal vivo, e si sono potuti rivedere grazie ad una rassegna fotografica che ha voluto immortalare le maschere e le immagini più belle dello sbaracco. Per tutti gli intervenuti, un dono simpatici gadget soddisfatti gli organizzatori.